Sì, una volta a tanti. 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 Sì. Sì, una volta a tanti. 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 Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, 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 ehi. Allora dovevi riprendere anche André, non fa ridere, dai, vai Vicky, vai, dai, no, non c'è neanche Alessandro, no, Alessandro già c'è, lo devi dire quando togli, non quando fai, e lei da dove fai? Da dove fai? Da dove fai? Dai, vai! Non è l'esempio! Non è l'esempio! Non è l'esempio! Non è l'esempio! Solo io posso attaccare! No! Aiutiamo il attore che ne ha due! Massimo, poi metto già qui! Ah! Vai lungo, vai lungo! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Vai forte! Paragio! Non c'è nessuno! Questo è il mio non ci fai niente! Non c'è nessuno! Grazie. Grazie. Vai Michele. Grazie. 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 Sono i padoni. Forza Andrea. 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 Alla, sorda là!